Facciamo un salto al Mobile World Congress di Barcellona e scopriamo insieme VideoFi, l'innovativa piattaforma per i servizi videomobili di nuova generazione. Abbiamo incontrato Ettore Decio, Director VideoFi, che ci ha presentato il nuovissimo compositore Flash che permette agli utenti di pubblicare sul web dei contenuti direttamente dal proprio cellulare. VideoFi è una piattaforma di software che serve per generare video in modo dinamico con lo stesso approccio con cui si crea una pagina web HTML. C'è la possibilità di mixare contenuti multimediali, audio, video e testo e creare automaticamente un video finale come proprio se fosse una pagina web. Lo scopo è proprio quello di riuscire a fare video in modo dinamico e personalizzarli sulla base anche del profilo di chi richiede quel video. Quindi si può riuscire a inserire all'interno del video informazioni che servono a customizzare a chi fruisce il video, il video stesso. Usando la nostra tecnologia VideoFi abbiamo sviluppato delle video applicazioni che sono dei servizi white label rivolti ai nostri veri clienti, al nostro mercato target che sono i portali, le media companies, le community. Questi servizi sostanzialmente devono essere integrati nel contesto specifico in cui verranno utilizzati e personalizzati con il brand poi del cliente. Al momento abbiamo sviluppato tre servizi che sono un videoportale generico che può essere adattato e completato con i contenuti dell'editore e del portale. Un video blog, un servizio di mobile community pronto all'uso che può essere integrato facilmente in una piattaforma di blogging esistente e MyCam che è un accesso tramite videochiamata a una webcam connessa su internet. Per esempio qui vediamo adesso il servizio video blog in white label. Permette di registrare un video e permette di votare un video. Quindi funzionalità base di un video blog mobile. Posso anche applicare una cornice, uno skin a mia scelta. Ecco questo lo vediamo inquadrato in uno skin scelto al momento. Lo stesso video appena registrato è disponibile su server appunto e quindi come tale può essere manipolato poi da web e reso disponibile su altri canali. Un altro servizio white label che abbiamo realizzato è il videoportal che è un contenitore generico di informazioni che vengono pubblicate attraverso videochiamata. Qui abbiamo un esempio di accesso a un feed, quindi a un flusso di notizie in questo caso prese da Yahoo in cui andiamo a vedere quali sono le ultime notizie che sono state pubblicate su Yahoo News. La nostra tecnologia VideoFi genera automaticamente una serie di immagini componendole con il titolo della notizia e con la lettura contestuale della notizia. Queste sono esattamente le news disponibili in questo istante sul sito Yahoo.